Ed oggi cari amici sono i cani a sfilare, i nostri amici cani razza per razza, le copertine di una serie di ebook, anzi di una collana di ebook, ebook tutti monografici, ogni titolo dedicato ad una razza di cane che ce la racconta Giancarlo Nazari in questa collana che è curata da Nicoletta Salvatori. Buona visione e bau bau! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!